Torino-Cagliari, siamo nel febbraio 72, 2 a 1 per il Torino. Castellini si oppone col corpo a Gigi Riva. Cross di Dominghini. Testa di Riva e ancora Castellini si oppone, stavolta col viso. Azione personale di Pulici, che però si fa parare il tiro da Albertosi. Su Corner tocca Rampanti e Bui mette in rete. Rampanti su Pulici che segna d'esterno. Tiro di Dominghini, a lato. Riva ruba il pallone a Puglia. Mette al centro, Dominghini ancora fuori. Segna Riva su calcio di rigore.